ma in frattempo restiamo appunto in italia con il presidente franco bassanini che è il presidente di open fiber benvenuto e grazie per aver accettato il nostro invito prego e come voi sapete open fiber è snodo nevralgico per le telecomunicazioni per il futuro di questo paese gli investimenti in tecnologia e quindi mi sento di condividere quanto diceva prima il presidente il presidente capitani speriamo allora che davvero l'italia possa recuperare un primato tecnologico grazie a delle strategie nazionali lascio a lei la parola questo tema è la persona più indicata da sviluppare sono un po' imbarazzato a parlare dopo maurizio decina e capitano decina è il mio maestro e di fronte a una platea di esperti io sono un giurista non sono un tecnico e ne so mille volte meno di voi ma parlerò di un tema specifico che è quello della infrastruttura materiale di base del 5g e di quello di cui stiamo discutendo vi porto indietro un momento nel tempo le grandi reti di telecomunicazione nella prima metà del novecento furono costi costruite in tutti i grandi stati europei erano reti in rame naturalmente fondamentalmente da società pubbliche o da società private concessionarie dello stato la scelta di questo modello società pubblica o privata ma assegnataria di una concessione pubblica rispondeva in sostanza a tre ragioni la prima assicurarsi imponendo al concessionario dei precisi obblighi di investimento quindi di copertura che un servizio essenziale come il collegamento telefonico fosse assicurato anche laddove non vi era convenienza di mercato a realizzarlo quindi servizio universale la stessa cosa avvenne nel caso della rete elettrica il secondo facilitare la mobilitazione degli ingenti capitali di equiti e anche di debito di lungo termine necessari per la realizzazione di un'infrastruttura che avrebbe garantito sia una remunerazione degli investimenti ma solo dopo la sua realizzazione e con tempi di ammortizzazione del costo dell'investimento lunghi nel lungo termine e terzo evitare il rischio di una duplicazione inefficiente di investimenti nella realizzazione di una rete che in quel momento si configurava sostanzialmente come un monopolio naturale come le reti ferroviarie stradali e elettriche. Predominante era il ruolo dello Stato perché lo Stato non solo nel caso del TLC ma anche delle infrastrutture di trasporto lo Stato è per sua natura un investitore paziente di lungo termine e per antonomasia è interessato alle esternalità positive che le infrastrutture di rete se ben programmate e ben concepite possono produrre in termini di crescita economica, di coesione sociale, di qualità della vita, di attrattiva turistica eccetera ed è resto allo Stato che spetta garantire i diritti e i beni comuni universali e l'erogazione dei servizi pubblici essenziali ai cittadini. Poi nella seconda parte del Novecento le società pubbliche che avevano in proprietà o in gestione le reti, ancora il rame ma si cominciava a parlare di fibra ottica, l'Italia fu tra i precursori di questo col piano Socrate furono in tutto o in parte privatizzate, in parte in paesi come Germania e Francia in cui lo Stato conservò il ruolo di azionista di controllo, totalmente in altri paesi. Nel frattempo però era cambiato il modello di business di queste società, le grandi reti infrastrutturali erano state costruite, gli investimenti di lungo termine che erano stati effettuati per realizzarle erano stati del tutto quasi del tutto ammortizzati. Il business di queste società era divenuto non più la costruzione ex novo ma la gestione della rete, il suo modernamento naturalmente, la sua estensione graduale, l'erogazione di servizi di TLC, il marketing, acquisizione di nuovi abbonati, il billing, la fatturazione degli abbonamenti delle entrate, lo sviluppo di servizi di telecomunicazione. Non si trattava più di un investimento Greenfield, si trattava al più di un investimento infrastrutturale Brownfield che si finanziava con una quota del cash flow prodotto dalla gestione della rete e dalla vendita dei servizi. Aumentò in queste società il peso di azionisti di breve termine interessati a rendimenti a breve e a capital gain a breve in prima fila i fondi internazionali speculativi. Le politiche di privatizzazione furono accompagnate da politiche di liberalizzazione, nacquero competitor privati, si posero problemi di regolazione sempre più complessi nei rapporti asimmetrici tra il vecchio incumbent, il vecchio monopolista e i competitor privati. Con la prima affermazione delle TLC mobili, semplifico, infatti scorro rapidamente quello che mi ero scritto, ma si passò a un modello di competizione infrastrutturale anche perché l'investimento nell'infrastruttura era relativamente contenuto all'origine. E arriviamo al giorno d'oggi, al giorno d'oggi nel quale, come è stato descritto prima di me dai miei due predecessori con cui non sarei minimamente in condizione di competere e come voi sapete meglio di me è avvenuta una rivoluzione digitale che impone una rottura radicale anche per quanto riguarda l'infrastruttura di base delle telecomunicazioni e pone un nuovo tema, un nuovo tema di politiche industriali pubbliche. Quali sono i due dati di partenza? Li riassumo soltanto per ricordarvi alla vostra attenzione. Da un lato è che la rivoluzione digitale sta cambiando il mondo con una velocità straordinaria, sta cambiando radicalmente non solo il modo di produrre beni e servizi nell'industria, nel turismo e nella finanza, ma anche il modo di informarsi, di insegnare, di imparare, di divertirsi, di produrre e fruire di cultura e di beni culturali, di muoversi sul territorio, di monitorare e prevenire i disastri naturali, di tutelare la sicurezza delle persone e delle cose, di organizzare la prevenzione delle malattie e la cura della salute, l'assistenza agli anziani, i rapporti tra l'API e i cittadini, persino le stesse istituzioni della partecipazione della democrazia. Sono tutti beni pubblici che lo Stato non può non avere come scopo le istituzioni quello di curare e tutelare e che ormai vengono radicalmente cambiati dalla rivoluzione della trasformazione digitale. Quindi il pubblico non può non occuparsi di quello che ormai è il fattore chiave per la crescita, per la competitività, per il benessere, per la qualità della vita, per la sicurezza delle persone, per la tutela di tutti questi beni pubblici fondamentali. Dall'altra, l'altro dato è che il sistema è basato sulla questa straordinaria nuova materia prima fondamentale per l'economia, per lo sviluppo, per la coesione sociale che ha una dimensione illimitata, infinite possibilità di crescita che sono i dati, miliardi e miliardi di dati raccolti, organizzati, confrontati, interpretati in senso reale. Il sistema nervoso di questo sono le reti di telecomunicazione e diciamolo le reti di telecomunicazione in fibra ottica perché a scambiare miliardi di dati, a connettere le torri o i ripetitori del 5G, a connettere le case, le aziende, gli uffici, le scuole, gli ospedali, le pubbliche amministrazioni, dove continueranno a essere connesse da connessioni fisse accanto insieme al 5G, possono essere soltanto reti che siano in grado di garantire latenza di 1-2 millisecondi, il rame anche in reti miste non è in grado di consentirlo, sono in grado di garantire affidabilità, resilienza, velocità di upload, non solo di download, adeguati a questo sistema. Stiamo parlando di reti in fibra. Le polemiche di questi giorni che ricordava Barberio a me hanno fatto ricordare le polemiche che nell'Ottocento i sostenitori delle carrozze a cavalli opponevano al sviluppo delle ferrovie e del motore a scoppio. Per quanto si frustassero i cavalli non si riusciva ad ottenere velocità di trasporto competitive con quello che il progresso tecnologico ormai consentiva. Forse c'è una nuova sigla Franco, no TAV, no FIBER. Forse è questo, forse è questo. Bravo, bravo, no FIBER. Capisco che c'è chi ha interesse a negare l'evidenza, forse per ritardare la progressiva dismissione delle reti in rame e l'impatto che questo avrà sui bilanci di alcune società. Sottolineo che Telefonica, che per ragioni anche tecniche, come sapete, della sua architettura di rete è uno dei più avanzati o progressisti dei vecchi incumbent, ha annunciato entro il 2020 lo spegnimento completo della rete in rame perché avrà completato la stesura fino al 100% delle abitazioni, delle imprese, degli uffici spagnoli della costruzione della rete in fibra ottica. È un obiettivo inevitabile. Roberto Viola qualche giorno fa ha scavalcato il rubicone e ha affermato con una certa rudezza che il principio della neutralità tecnologica può essere utilizzato in molti casi ma non per negare la superiorità e la necessità dell'infrastruttura di base capillare e pervasiva in fibra ottica. Il vicepresidente della Commissione europea ANSIP ha ripetuto tre giorni fa che il sviluppo dell'infrastruttura in fibra ottica e lo sviluppo dei modelli di Wolse e Lolli, ma questi ci arrivo tra un secondo, e di co-investimento Wolse e Lolli e di co-investimento sono il cuore della strategia europea per la trasformazione digitale. Sono il cuore naturalmente dal lato dell'infrastruttura, poi c'è tutto il resto dal lato dello sviluppo di servizi e applicazioni di cui hanno parlato le precedenti relazioni. E allora qui siamo a un punto abbastanza delicato. Perché? Perché di questa infrastruttura abbiamo bisogno e si ha bisogno e si ha bisogno su tutto il territorio, per tutti. Se non fosse disponibile per tutti si creerebbe un nuovo digital divide con conseguenze ed effetti ancora più penalizzanti e rilevanti dei vecchi. C'è qui un servizio universale e quindi una necessità di copertura universale. Se posso dirlo in termini molto rozzi, il 5G rispetto ai suoi predecessori non è caratterizzato solo dalla mobilità, connessione mobile, ma in qualche modo dall'ubiquità. Il 5G dovrà assicurare una... Quando andremo con le macchine con la guida assistita, prima della guida autonoma, che ci consentiranno, lo dico anche qui con un esempio rozzo, che ci avvertiranno se dietro la curva cieca che non vediamo sta arrivando un tiro o no, non si può pensare che improvvisamente non ce lo dice più. Perché in quel punto c'è un buco nella copertura lungo una strada statale o lungo comunque una strada di grande comunicazione. Ne si può pensare che la rete non garantisca non solo i tempi di latenza, ma anche l'affidabilità e la resilienza propria dell'infrastruttura in fibra ottica. E allora, occorre questa infrastruttura, occorre con una copertura universale, è probabile che si ripeta una situazione che in qualche modo è simile a quella dal punto di vista delle politiche pubbliche e delle regolazioni di un secolo fa, quando furono costruite le grandi reti di telecomunicazione in rame. C'è un'esigenza di copertura universale, c'è una situazione nella quale probabilmente per alcune parti del territorio la logica di mercato rende sostenibili, appetibili, attraenti gli investimenti e altre invece in cui non li rende. zone a fallimento di mercato. Come si fa? Come si interviene? Il rischio della mera competizione infrastrutturale è che si duplicano, si triplicano gli investimenti in alcune aree con un inefficiente uso delle risorse e restino prive di copertura altre aree. È un problema di politiche pubbliche, proprio perché la realizzazione della rete del 5G è essenziale per garantire tutti quegli beni pubblici a cui ho accennato prima. Ne dico un altro di cui non si è parlato, ma stiamo sperimentando all'Aquila nell'ambito della sperimentazione 5G una rete di sensori collegati in 5G che consentono di cogliere anche i minimi segnali di possibili movimenti tellurici, per così dire, e che secondo molti scienziati potrebbero consentire, ovviamente se collegati Internet of Things con la rete a grandi elaboratori elettronici in tempo reale, di cogliere i segnali di terremoti in arrivo e far intervenire immediatamente, far intervenire immediatamente anche qui utilizzando gli stretti tempi di latenza della rete, dare immediatamente dei segnali che possono salvare molte vite umane, possono evitare molti danni, un problema di sicurezza e di incolumità dei cittadini. Come fare? E qui vengono le due questioni su cui, terminando, attiro la vostra attenzione. La Commissione europea ha indicato chiaramente sotto questo profilo i benefici del modello Woolsey & Olly, il modello in cui la rete viene realizzata per tutti, da un imprenditore, da un'impresa, da una società, che fa un investimento di lungo termine, mobilita quindi capitali e investitori di lungo termine, ce ne sono nel mondo, ce ne sono molti, tipicamente investitori infrastrutturali, che investono in infrastrutture materiali e quindi adottano quel modello di business, oppure investitori istituzionali che hanno un modello di business più articolato ma che ritengono utile riservare una parte del loro portafoglio a investimenti di lungo termine con ritorni certi ma ritardati nel tempo, per così dire. Quindi un investitore che ha il modello di business delle infrastrutture e che realizza una rete e la mette a disposizione di tutti in condizione di assoluta parità di trattamento non facendo concorrenza ai propri clienti come avviene invece quando un'impresa verticalmente integrata che offre insieme servizi e infrastrutture di telecomunicazioni perché ovviamente quando offre l'uso dell'infrastruttura a un altro service provider gli fa poi concorrenza sulla stessa infrastruttura nel rapporto con i clienti retail, con i clienti finali e quindi è fortemente tentata come la storia delle autorità di regolazione dimostra di innescare in qualche modo pratiche discriminatorie per difendere la propria posizione dominante sul mercato dei servizi utilizzando la proprietà della rete il monopolio della rete nei confronti dei propri competitor il Wursell Olli e in Europa ce ne sono non c'è solo Open Fiber Open Fiber diciamo in questo momento in Europa è l'unico che ha un progetto nazionale insieme se volete al nostro cugino islandese ma stiamo parlando di un paese di 350.000 abitanti quindi di un paese grande come territorio ma piccolo come numero di abitanti City Fiber in UK ha un progetto di connessione di 9 milioni di unità immobiliari importante non marginale ma riguarda come dire una minoranza delle unità immobiliari inglesi si sta sviluppando in altri paesi il modello Wursell Olli la Commissione Europea più che la Commissione Europea il nuovo codice delle comunicazioni elettroniche europee che è stato proprio in questi giorni definitivamente varato dalle istituzioni europee prevede espressamente che gli operatori Wursell Olli siano incentivati dalle autorità nazionali di regolazione attraverso una regolazione più flessibile meno vincolante fermo naturalmente l'obbligo che però è nella natura stessa del Wursell Olli di garantire assoluta parità di accesso e di utilizzo della rete da parte di tutti i service providers che ne facciano richiesta direi un vincolo a un limite che è consustanziale allo stesso modello di business del Wursell Olli in alternativa la Commissione Europea suggerisce l'uso dei co-investimenti da parte di più operatori non senza nascondersi tuttavia che lì c'è un problema di regolazione più complicato perché per quanto i co-investitori possono essere più di uno rischiano di non essere mai tutti e soprattutto di non essere aperti ai nuovi entranti e quindi di innescare il rischio di nuove pratiche discriminatorie nei confronti di qualcuno dei service provider l'altro aspetto è come le politiche pubbliche possono incentivare lo sviluppo della rete ricorderete che i giornali italiani ne hanno parlato in modo molto improprio devo dire ma qualche mese fa l'allora direttore dell'ufficio studio della National Security Agency degli Stati Uniti il generale Spaulding presentò inviò al presidente degli Stati Uniti un rapporto letto con gli occhi degli europei quel rapporto può sembrare abbastanza sommario e rozzo ma il rapporto finì sui giornali i giornali italiani lo riferivano come la National Security Agency propone la nazionalizzazione della rete 5G degli Stati Uniti cioè la costruzione di una rete di Stato in posizione di monopolio di Stato in realtà la lettura di quel testo dimostra un'altra cosa il problema era il problema che poneva era gli Stati Uniti rischiano di perdere la competizione tecnologica e anche la competizione politica geopolitica se volete con la Cina perché il governo cinese sta investendo 400 miliardi di dollari sullo sviluppo del 5G e potrei aggiungere 250 miliardi di dollari sullo sviluppo dell'intelligenza artificiale non c'era perché non era stato ancora annunciato mentre i grandi player della rete americani non hanno intenzione di investire altrettanto e soprattutto investiranno soltanto nelle aree nelle quali il ritorno di mercato è più promettente e quindi rischiano di creare un handicap dal punto di vista dell'infrastruttura che in un domani è insuperabile in prospettiva diventa insuperabile come fare letto con gli occhi dei giuristi europei diremmo che quello che proponeva era una sorta di sistema di concorrenza per il mercato cioè far indire una gara indire una gara per tra i diversi player a chi vinceva questa gara diventava il concessionario di un'infrastruttura che poteva anche restare privata che era finanziata con risorse con capitali pubblici oltre che con quelle private e con obblighi di copertura universale quello che per le aree a fallimento di mercato il governo tramite infratella ha fatto bandendo delle gare per la copertura in fibra ottica questo parliamo del fisso ma e qui è il punto finale tra infrastruttura di base della rete fissa in fibra ottica e infrastruttura di base orizzontale della rete del 5G ci sono sicuramente grandi sinergie giustamente nella comunicazione sulla Gigabit Society la Commissione Europea ha detto che andrebbero progettate e realizzate in maniera coordinata e coerente fra loro perché voi capite che se si attraversano le campagne di solito sui pali della luce dei vari Enel distribuzioni Acea Era A2A eccetera con i cavi con dentro uno due tre cinque minitubi da 144 fibre ciascuno è facilissimo mettere qualche minitubo in più con qualche altra centinaia di fibra in più e automaticamente ogni dieci pali si ha già una torre su cui collocare una stazione radio base della rete 5G con il vantaggio di non avere da acquistare o affittare il terreno su cui piazzare la torre di non avere da ottenere autorizzazioni paesistiche urbanistiche e così via e di avere già la fibra che collega le stazioni e qui assicura con investimenti molto limitati una copertura ubiqua del territorio poi Maurizio Decina ci insegna che sul territorio potrebbero bastare in una certa fase anche che questi ripetitori siano a 4,5G invece che 5 per le ragioni che lui vi spiega molto meglio di me che quindi io non ripeto ma che comunque devono essere collegati in fibra perché se non sono collegati in fibra non possono portare questi milioni e miliardi di dati ecco allora il pubblico può pensare ad una strategia per incentivare la realizzazione di un'infrastruttura di questo genere e se questo si riuscisse a realizzare si può pensino pensare che a certe condizioni gli imponga obblighi di copertura universale garantendo come si fa in questi casi una equa remunerazione dei costi aggiuntivi degli obblighi di copertura universale l'emendamento di cui si è molto discusso al decreto fiscale che è stato approvato dal senato qualche giorno fa e su cui sono scoppiate polemiche sui giornali per la verità non tra le forze politiche la cosa singolare e devo dire una volta tanto incoraggiante è che su questo emendamento c'è stata l'unanimità i due partiti che sono al governo i due maggiori partiti di opposizione hanno votato a favore sui giornali si sono elevati i sostenitori del mito della neutralità tecnologica dicendo come con questo emendamento si incentivano si promettono incentivi per la realizzazione di una rete capillare in fibra ottica su tutto il territorio spero di avervi in qualche modo spiegato perché secondo me quell'emendamento è giusto ed è una buona cosa che sia stato approvato e forse ci consentirà in prospettiva di recuperare un po' dell'handicap che il professor Capitanio ha ben documentato con dati statistici che essendo internazionali sono difficilmente contestabili perché le fake news hanno un limite che a un certo punto prima o poi si confrontano con i fatti e con i dati veri un attimo professor Bassanini solo un attimo perché lei ha chiuso con il cuore del problema e il cuore del problema è che in questo momento mentre lei ha concluso il suo intervento a Bruxelles come lei ha anche ricordato si sta discutendo del nuovo codice delle telecomunicazioni e c'è un fatto molto importante che in Italia nessuno dà peso alle parole del dottor Roberto Viola il quale ha fatto una dichiarazione proprio eicheggiando le stesse espressioni che lei ha usato poco fa sul fatto che la commissione europea non ha alcuna neutralità tecnologica da difendere ma si è schierata e questo forse è il dato politico più rilevante una battuta di un attimo professore a rigore uno può dire Barberio lei sa perfettamente quello che dico e Maurizio me lo insegna a rigore uno può dire che se la neutralità tecnologica fosse applicata in senso come dire comunista effettivamente qualche problema potrebbe esserci la rete che Open Fiber sta realizzando per conto di Infratel prevede che per le case sparse l'ultimo miglio che poi non è neanche un miglio è molto sia realizzato in FWA per esempio ma questo riguarda quanto un 4-5% del totale cioè stiamo parlando di 6.700 comuni di 9 milioni erotti di unità immobiliari in area fallimento di mercato dove nessuno degli operatori intendeva investire neanche in FTT-Cab neanche in reti miste fibra-rame dove si interviene con un contributo pubblico con una gara che era aperta a tutti Open Fiber l'ha vinta ma una prima gara partecipata anche Telecom Italia e si porta la fibra al 90% direttamente in casa di questi 9 milioni erotti di unità immobiliari ce n'è una piccola percentuale in cui gli arriva la connessione FWA ma da un punto a cui arriva la fibra e quindi questo consente una connessione che non è in questi casi una connessione upgradabile a un gigabit vero Maurizio come negli altri casi che però è una buona connessione se si dicesse che l'interpretazione della fibra ottica dappertutto significa anche escludere il caso delle case sparse si darebbe una cosa difficilmente sostenibile ma per tutto il resto non c'è dubbio che parlano i dati abbiamo bisogno di qualità di performance e ripeto i difensori del rame parlano sempre soltanto di velocità di download che sono upgradabili col vectoring non parlano mai di upload di latenza di resilienza di affidabilità di sicurezza per tutte queste performance la fibra è incomparabile rispetto al rame grazie professor Bassanini Franco Bassanini grazie a tutti Grazie a tutti.